Dossier della DIA Direzione Investigativa Antimafia che denuncia esistono percorsi di formazione all'interno dei clan come in un'accademia Ancora violenza, ruggi, medici, ora basta interventi urgenti per porre fine agli aggressioni in corsia a lanciare l'ultimatum il presidente dell'ordine dei medici di Salerno D'Angelo che chiede l'approvazione di una nuova legge gli operatori della sanità devono essere equiparati ai pubblici ufficiali Patto PD de Magistris Ruotolo è il candidato il giornalista sotto scorta scelto per le elezioni suppletive al senato per il vomero nessuna intesa con i 5 stelle alle prese con le polemiche interne per il voto online intanto De Luca avverte basta falsità, nessun passo indietro Ruogo di tirra a Montoro giallo sulle cause spaventoso incendio nella notte in un deposito di automezzi pesanti gravi danni, distrutti alcuni autoveicoli indagano i carabinieri l'ex sindaco Bianchino si accerti la verità servono più telecamere contro il crimine rapine nelle farmacie catturato il bandito in trappola un 36 anni napoletano aveva messo a segno i colpi nel mese di marzo dello scorso anno in due farmacie di Napoli gli inquirenti sono riusciti a identificarlo grazie alle immagini della videosorveglianza l'arresto a Castellammare schianto a Benevento la vittima erpina due persone morte in sole 24 ore lungo la strada Sannita a perdere la vita ieri sera una 74enne di Monte Calvo Irpino residente nel capoluogo Sannita l'auto su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un'alfa guidata da un giovane di Ariano Irpino buongiorno dal TG 696 le bande giovanili sono l'Accademia della Camorra la DIA nella sua relazione semestrale traccia un quadro allarmante della criminalità organizzata di Napoli ieri Viminale ha nominato Marco Valentini nuovo prefetto sentiamo aspiranti camorristi organizzati in bande giovani che magari non hanno legami con le organizzazioni criminali ma che agiscono con la stessa violenza esasperata è questo universo a costituire l'Accademia della Camorra nel giorno in cui il Viminale nomina il nuovo prefetto di Napoli Marco Valentini la DIA traccia un quadro allarmante della criminalità organizzata napoletana nelle pagine della relazione semestrale inviata al Parlamento per la direzione investigativa antimafia si tratta di un efficace percorso di formazione e selezione della futura leadership da cui emergeranno i nuovi capi in base alle capacità di dare ordini stringere alleanze e di essere punto di riferimento nell'azione criminale protagonisti di questo fenomeno sono giovani che provengono da territori dove si concentrano povertà emarginazione assenza di valori familiari elevatissimi tassi di evasione scolastica e mancanza di occasioni di lavoro legale a questa realtà si aggiunge la schiera di ragazzi che appartengono a famiglie mafiose e vengono iniziati dagli stessi genitori ad attività criminali un tema questo insieme a tanti altri che il nuovo prefetto Valentini troverà sulla sua scrivania a palazzo di governo sono molto contento dice metterò tutto il mio impegno in questa mia avventura e sono convinto che si potrà lavorare bene e dopo la frana e la metro chiusa ai camaldoli protestano i residenti i lavori ancora fermi e noi prigionieri nelle nostre case sentiamo ripristinata da oggi la linea 1 della metro a Napoli tra Colle Aminei e Piazza Garibaldi collegamento interrotto dopo l'incidente con lo scontro che aveva coinvolto tre treni ma continuano i disagi in città proprio in virtù della limitazione della metro caos per il traffico soprattutto nella zona ospedaliera e Colle Aminei a Capodimonte all'altezza di Via Miano nei pressi del bosco e in parte del centro storico bloccati dal traffico anche i pullman dell'ANM scelti dagli utenti in alternativa alla metro nella zona collinare ad aumentare il traffico anche la chiusura di Via Soffritto ai camaldoli con i residenti del posto prigionieri in casa per la frana dimenticata da mesi queste persone in qualsiasi momento che hanno bisogno di soccorso oppure devono uscire dalle proprie abitazioni insomma sono impossibilità da farlo perché sia a valle e sia a monte praticamente la strada è chiusa ci sta una scuola d'Armon ci sono delle persone anziane e non è giusto non è giusto non è giusto secondo me agire in questo modo ogni mattina ci sono grandi disagi giustamente la mattina i ragazzi arrivano con frequenti ritardi e tutte le mattine si paralizza il traffico quindi sono impossibilitati nell'arrivare in orario a scuola ho mia figlia che deve subire delle cure e necessita di frequenti controlli io non posso pensare che la strada sta chiusa vado dall'altra parte invece di metterci dieci minuti quanti ce ne devo metterci ne metto mezz'ora e un'ora perché per me è rischioso viste le difficoltà che abbiamo sulla circolazione della zona ospedaliera e che hanno difficoltà i cittadini che risiedono secondo me l'amministrazione comunale deve intervenire in danno con un lavoro di sommorgenza interventi immediati per porre fine alla violenza in corsia a lanciare l'ultimatum dopo l'ennesima aggressione all'ospedale Ruggi d'Aragona il presidente dell'ordine dei medici di Salerno D'Angelo che chiede l'approvazione immediata della legge che equipari gli operatori alla sanità a pubblici ufficiali sentiamo il servizio si lavora in uno stato di guerra sono esasperati i medici salernitani dopo l'ennesima aggressione subita in corsia a farne le spese un camice bianco e un infermiere aggrediti dai familiari di un settantenne deceduto nel reparto di pneumologia dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno sciocchi il racconto delle vittime che hanno riportato ferite e reputate guaribili in 20 giorni denunciati il figlio e il nipote dell'anziano intanto il presidente dell'ordine dei medici di Salerno chiede interventi immediati il problema non si risolve solamente con un atto di repressione accanto all'atto di repressione che diventa in questo caso una misura d'urgenza dettata dalla gravità degli atti e dei fatti che si stanno succedendo questa condizione va affrontata anche in un momento più lungo di tempi in tempi più lunghi con una revisione di tutta una problematica che può riguardare tutte le condizioni favorenti la violenza nell'ambito della sanità dall'ambiente in cui si lavora dalla condizione in cui si lavora dal numero dei professionisti che sono presenti sul campo dalla stessa professionalità messa in atto e anche soprattutto da un'azione di educazione civica sulla gente e dalla informazione verso la popolazione che il pronto soccorso non è un ufficio bancario nel cui uno può andare a risolvere la problematica ma è un luogo nel quale la condizione di attesa è legata sicuramente ad un problema di intasamento cioè di problematiche legate a un sovraffollamento elezioni suppletive a Napoli si spacca l'asse Movimento 5 Stelle PD il centro-sinistra sceglie il giornalista Sandro Ruotolo per il seggio di Napoli al Senato polemiche nei grillini per il vincitore del voto online Luigi Napolitano mentre il governatore De Luca dice sono tranquillo e vado per la mia strada sentiamo il giornalista Sandro Ruotolo mette d'accordo PD DEMA per il seggio di Napoli al Senato una scelta alla quale si è arrivati dopo la rottura delle trattative con i 5 Stelle un passaggio tattico con DEMA sul Ruotolo è arrivata la benedizione del segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti che dice è una buona notizia la sua disponibilità un professionista che ha segnato la storia del giornalismo di inchiesta ma se De Magistris sposa l'idea di Ruotolo il Movimento 5 Stelle si tira fuori dai giochi e va avanti con una risposta quella di Luigi Napolitano vincitore del vuoto della piattaforma Rousseau per il collegio Vomero una scelta che ha creato frattura all'interno del movimento lacerazione che non dispiacciono di certo a De Luca che ha detto di andare avanti per la sua strada dovrebbero andare in conclave tutti i pallisti che abbiamo in questa regione è una cosa sconvolgente la quantità di invenzioni di supposizioni di complotti di imbecillità è sconvolgente io non so dove si trova tutto il tempo per fare queste cose da questo punto di vista abbiamo una grande soddisfazione come potete vedere quotidianamente siamo gli unici che continuano a lavorare per i cittadini anziché per inventare i complotti comunque se mi propongono di fare anziché il governatore a Campania il governatore a Banca d'Italia io sono d'accordo ci vanno i corsi c'è il sostegno è giallo a Montoro sulle cause di un ruogo divampato in un deposito di tir tre i mezzi coinvolti l'ex primo cittadino Mario Bianchino invoca più controlli subito il potenziamento di telecamere sentiamo indagano i carabinieri per l'incendio divampato questa notte in un deposito per automezzi pesanti a Montoro in località San Felice le fiamme hanno interessato le motrici di tre tir sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano e i vigili del fuoco che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme gli inquirenti non escludono nessuna pista neanche quella dolosa anche se la dinamica dell'incendio e i primi riscontri farebbero pensare a un cortocircuito dalla cabina di uno dei mezzi l'episodio ha comunque destato preoccupazione in paese il deposito è vicino a una scuola e non distante dal centro abitato della frazione San Felice il sindaco Girolamo Giacuinto ripone massima fiducia nelle forze dell'ordine augurandosi che l'episodio sia avulso da contesti sociali montoresi mentre l'ex primo cittadino attuale consigliere d'opposizione Mario Bianchino chiede tempi rapidi nell'accertare le cause e un potenziamento dei controlli in paese le forze dell'ordine sicuramente svolgeranno e svolgeranno bene il loro lavoro per dare tranquillità a questa comunità non possiamo ascrivere quanto accaduto a una causa conosciuta oggi bisogna solamente capire che cosa è successo diversamente rischieremo di fare delle ipotesi sbagliate noi ci auguriamo che questo avvenga subito a noi interessa che ci siano due cose il potenziamento sul territorio delle forze dell'ordine e allo stesso tempo un maggiore coordinamento attraverso la videosorveglianza attraverso anche forme di sorveglianze specifiche più mobili videosorveglianze mirate catturato il rapinatore seriale delle farmacie di Napoli si tratta di un pregiudicato 36enne napoletano colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura decisive le immagini del sistema di videosorveglianza che hanno consentito di risalire al responsabile di due rapine commesse nel marzo dello scorso anno ai danni di due farmacie di via Epomeo e del parco San Paolo anche le indicazioni fornite dalle vittime hanno agevolato il lavoro degli agenti della polizia il rapinatore armato di pistola era riuscito sempre a farsi consegnare l'incasso gli agenti lo hanno bloccato a Castellammare di Stabbia due le persone decedute in sole 24 ore lungo le strade sannite a perdere la vita ieri sera a Benevento una 74enne originaria di Monte Calvo Irpino ma residente nel Sannio la malcapitata era col marito quando la loro auto si è scontrata frontalmente con un'alfa guidata da un giovane di Ariano sentiamo saranno effettuati nella giornata di oggi i primi esami medico legali della donna morta ieri sera a Benevento in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto alle porte della città lungo la statale 90 bis delle Puglie che dal capoluogo Sannita conduce a Paduli e Buonalbergo la salma di Giuseppa Grosso 74 anni originaria di Monte Calvo Irpino ma residente da decenni a Rione Libertà Benevento è stata infatti trasferita all'obitorio dell'ospedale Rummo al termine dei rilievi degli agenti della polizia stradale sarà ora il magistrato a dover restabilire se effettuare o meno l'autopsia condizioni stabili seppur nella loro gravità quelle del marito della 74enne decedute e di un'altra donna ricoverata in codice russo la tragedia si è consumata dopo le 17 all'altezza del chilometro 3 nei pressi di una curva tristemente nota per altri incidenti stradali a scontrarsi frontalmente sono state una Nissan Micra con a bordo la coppia di anziane e un Alfa Romeo mito che viaggiava in direzione opposta guidata da un 26enne che era in compagnia della madre inutili disperati tentativi da parte dei sanitari del 118 di rianimare la pensionata dolore e incredulità sia in Ispini a Monte Calvo dove la coppia non aveva mai spezzato i legami di appartenenze dove vivono numerosi familiari che a Benevento dove invece la signora era molto conosciuta per aver vissuto da decenni a Rione Libertà Torna la banda dei Bancomat in Irpinia colpo riuscito nella notte in Baronia a Vallata malviventi in azione con l'esplosivo sentiamo hanno agito nel cuore della notte in pieno centro a pochi passi dal municipio e dalla piazza centrale del paese erano le 3.25 quando i malviventi hanno fatto esplodere il Bancomat dallo sportello esterno dell'agenzia della Banca Popolare dell'Emilia Romagna al Corso Kennedy di Vallata un'operazione durata soli 5 minuti come ci descrive dettagliatamente un testimone che ha assistito all'intera scena dalla sua abitazione ho sentito prima un rumore di motosega tipo motosega e poi dopo veramente un'esplosione forte è stato veramente 5 minuti sono stati ma sono stati veramente terribili avete pensato subito una cosa della rapina sicuramente poi abito qua ho la finestra che non mi sono affacciato più di tanto perché c'era la macchina stava qua di fronte e ho visto un uomo che metteva la motosega nel cofano però non l'ho visto bene perché stava di lato non ho potuto vedere questo è tutto quello che ho visto sono andati contro mano scendendo di qua però poi è una cosa velocissima ancora da quantificare il bottino sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino che hanno avviato le indagini non si esclude come già accaduto in questa zona dell'Irpinia in passato che ad agire possano essere stati malviventi provenienti dalla vicina Puglia ricapitate dalla proprietà il gruppo indiano Jindal le lettere di licenziamento collettivo per i dipendenti dello stabilimento Treofan di Battipaia nel Salernitano chiuso ormai da più di un anno per la seconda volta è stata riattivata la procedura di licenziamento collettivo scrivono le maestranze sulla loro pagina Facebook prima di chiudersi nel silenzio vergogna stato dormiente vergogna continuate pure a non ledere gli interessi di queste multinazionali complimenti a tutti sulla vertenza è intervenuto l'onorevole del PD Piero De Luca che ha detto le due interrogazioni parlamentari che ho presentato hanno un duplice obiettivo prorogare la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell'azienda e convocare un tavolo al quale siedano le organizzazioni sindacali i rappresentanti aziendali e le istituzioni locali finalizzato all'individuazione dei potenziali nuovi investitori sono queste due azioni necessarie ed urgenti per procedere verso la reindustrializzazione del sito per tutelare le famiglie dei lavoratori il 28 gennaio a Benevento la visita del presidente Mattarella per l'inaugurazione dell'anno accademico ma Stella annuncia dopo la visita del capo dello Stato deciderò sulla crisi della maggioranza in comune sentiamo Benevento attende il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'inaugurazione dell'anno accademico dell'università degli studi del Sannio sarà occasione per la visita del capo dello Stato il prossimo martedì 28 gennaio ancora da definire i particolari dell'appuntamento ma il presidente arriverà a Benevento in treno con il frecciargento qualche minuto prima delle 10 ad attenderlo il prefetto Cappetta attualmente è previsto che vada a Santa Sofia e al Museo del Sannio e poi successivamente nel teatro nell'auditorium dove si svolgerà poi la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico le misure di sicurezza ci sono ma non militarizzeremo certo la città diciamo saranno misure concrete di sicurezza ma non invasive non è previsto un intervento di Mattarella durante la cerimonia dell'unisagno che si terrà nell'auditorium di Sant'Agostino ma non è escluso un saluto nell'occasione invece interverrà il neoministro dell'università e della ricerca Gaetano Manfredi a fare gli onori di casa il rettore dell'Ateneo Gerardo Canfora il presidente della regione Vincenzo De Luca ed il sindaco Clemente Mastella che ieri ha incontrato Mattarella a Roma insieme ad una delegazione di sindaci per la presentazione del rapporto dell'associazione Mecenate 90 sulle città di medie dimensioni e questa mattina attraverso la sua pagina Facebook il sindaco Mastella ha indicato proprio la data della visita di Mattarella a Benevento come deadline per le sue decisioni riguardo alla crisi politica della maggioranza al comune Traforo del Partenio continua lo scontro questa mattina si è costituito ufficialmente il comitato del no associazione i movimenti politici e semplici cittadini si schierano contro un'opera definita dispendiosa pericolosa e inutile mentre il presidente della provincia di Avellino Domenico Biancardi tira dritto per la sua strada e aspetta riscontri dalla regione oggi si è costituito ufficialmente il comitato a no Traforo del Monte Partenio all'assemblea erano presenti rifondazione comunista i giovani comunisti gli ambientalisti della Valle del Sabato il consigliere comunale del capoluogo irpino Amalio Santoro la partecipazione di associazioni movimenti forze politiche sociali cittadini e cittadini è assolutamente necessaria affermano gli organizzatori per evitare che il Partenio venga deturpato da un'opera dispendiosa e inutile il Parco del Partenio è un'area vincolata è una zona in cui c'è una forte risorsa idrica il Partenio ha subito già dai traumi negli anni scorsi quindi sarebbe opportuno innanzitutto pensare a una valorizzazione del Monte Partenio ripristinare tutte quelle aree che oggi esistono già e vanno sostanzialmente ristrutturate in modo da permettere una migliore circolazione permettere una migliore integrazione tra le popolazioni utilizzare le opere già iniziate organizzeremo delle assemblee pubbliche e cercheremo di interloquire anche con le pubbliche amministrazioni i comuni interessati ma non solo quelli affinché si apre un grande dibattito in questa terra sulle infrastrutture utili e sul modello di sviluppo necessario per questa provincia cerchiamo di capire cosa c'è dietro questo innanzitutto vogliamo sapere il tipo di progetto le attività messe in campo i soldi che già eventualmente si stanno spendendo non sappiamo nulla attendiamo e questa volta non stando fermi che il presidente della provincia ci convochi per avere un incontro chiarificatore cinque sindaci sanniti dovranno affrontare il processo per disastro colposo e omissione in atti di ufficio si tratta dei primi cittadini fino al 2015 di Ginestra degli Schiavoni San Giorgio Lamolara Monte Falcone di Val Fortore secondo l'accusa i sindaci chiamati in causa non avrebbero adottato gli interventi di somma urgenza per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità necessari per la sistemazione idraulica dell'alveo del torrente la Ginestra nel quale sarebbe stata consentita la realizzazione di una strada che avrebbe impedito il regolare deflusso delle acque lavori che avrebbero causato nei territori di competenza eventi franosi dal 2006 fino all'alluvione dell'ottobre 2015 con conseguente isolamento dell'abitato dei terreni limiti e delle aziende agricole un'aula magna intitolata a Melissa Larocca e Vittorio senatore i due studenti del liceo genovesi di Salerno morti drammaticamente nei mesi scorsi questa mattina la cerimonia presente anche l'arcivescovo Bellandi sentiamo ha il nome di Melissa Larocca e Vittorio senatore l'aula magna del liceo genovesi da Vinci di Salerno i due giovanissimi allievi morti drammaticamente nei mesi scorsi una cerimonia commossa nel ricordo di due vite stroncate troppo presto Vittorio si è spento a settembre a 16 anni in seguito ad un incidente in via Benedetto Croce circa un mese dopo proprio mentre si trovava in classe è venuto a mancare anche Melissa un duplice dramma mentre si cerca conforto nel ricordo c'è un cordoglio umano che deve esserci ed è giusto e poi dove c'è la grazia e la fede questo è un aiuto in più sicuramente perché per la fede la morte pur rimanendo un evento drammatico soprattutto per dei giovani però non è mai vissuta come l'ultima e definitiva parola la memoria è una grande ricchezza in tutto in tutto e quindi riconoscere anche quello che i nostri cari hanno ci hanno lasciato hanno costruito hanno amato e questo è un tesoro prezioso da non perdere viene ricordato mio figlio spero che rimarrà per i posteri non verrà dimenticato diciamo è abbandonato alla sua morte già dal giorno del funerale mi dissero che avrebbero fatto di tutto per ricordarlo proprio nella scuola nell'istituto anche il convitto nazionale di Avellino insieme a circa 400 scuole italiane è stato protagonista della notte dei licei classici un evento cominciato alle 18 e terminato a mezzanotte con il tema centrato sulla madre terra e l'inquinamento gli studenti docenti della scuola di Corso Vittorio Emanuele hanno inaugurato l'evento nell'atrio con il canto di Hildeward di Michael Jackson con una poesia dedicata all'ambiente a dare ufficialmente il via ai lavori è stata la dirigente Maria Teresa Briadoro che ha fortemente voluto questo evento alla presenza del vescovo di Avellino Aiello intervenuto sull'ecologia del cosmo e del prefetto Paola Spena sono state sono andate avanti attività laboratoriali sincrone nelle aule del liceo classico e del liceo classico europeo e poi ci sono stati momenti musicali con la partecipazione di Roberto Lombardi ed era l'ultima notizia il TG termina qui grazie di averci seguito un'ottima notizia Grazie a tutti.